A volte la natura riserva delle sorprese. Per evitarle, Michelin ha creato un nuovo pneumatico asimmetrico, ancora più aderente sui suoli scivolosi. Nuovo Michelin Energy. La strada è buona, anche quando è cattiva. Il Corriere della Sera presenta Maria Callas, il mito, venerdì la Tosca di Cucini, in CV a soli 9.910. Io apro un climatizzatore di serie a soli 14.840. Esplorando il corpo umano, oltre ai volumi e ai simpatici personaggi dei filmati, oggi è in più l'atlante anatomico con le schede trasparenti. In edicola la prima uscita con il primo volume e la prima parte dei due modellini a sole 2.900 lire, con videocassetta 5.900 lire di Agostini Junior. Entra anche tu nell'esclusivo mondo degli acconciatori Beauty Air Pro. I professionisti consigliati da Pharmac International che hanno scelto Protoplasmina, oggi ti presentano Beauty Color, che ha trasformato i colori della natura in una delicata crema colorante per capelli, con cera mini, che penetrando nella fibra lo ricostruiscono dall'interno rinforzandolo. Colore dopo colore ritroverai nuovi capelli più sani, forti e lucenti. Non rischiare, rivolgiti al professionista. Chiedi al tuo parrucchiere Beauty Color e Protoplasmina. Loro si prendono cura della tua bellezza. Che bella idea! Facilissimo! Facilissimo! Facilissimo a punto croce. Un concetto di idee, tantissimi spunti, motivi semplici e originali, da comporre e riprodurre come puoi. Con facilissimo a punto croce, gli schemi di ogni lavoro e la scuola di ricamo. Facilissimo! In più il club filodiretto Coz Fucirini risponde alle tue domande e pubblica i tuoi lavori, in edico dalla prima uscita con la matassina Anchor a sole 1.900 lire. Idea donna! Facilissimo! A punto croce! L'igiene non è un problema per me, perché uso l'isoform bagno, un giac che pulisce a fondo e in più disinfetta, così posso stare tranquilla. Nuovo l'isoform bagno, pulito sicuro, fresco e disinfettato. De Agostini ha creato i maestri immortali della musica classica, per il piacere di scegliere in ogni momento come e cosa ascoltare. I maestri immortali della musica classica, ogni uscita due compagdisca a un prezzo eccezionale. Mozart è già in edicola, sole 7.900 lire. Beh, qui ci vuole un brindisi alla nuova casa di Marta, eh? E alla sua nuova vita da singolo. Candeggio sbagliato e strappete. Dici? Ma per la candeggina? Sicuro! Io invece uso acida una vita per smacchiare le camicie del nonno e come vedi mai problemi. Ma da te c'è sempre da imparare? Beh... Acida smacchia a fondo senza strada. E oggi con il nuovo formato Gran Risparmio 4 litri la qualità di acida è ancora più conveniente. Grazie a tutti.